Ciao ragazzi sul canale Quest'oggi Ragazzi Lo so Io sono interista E ho visto la partita Della Juve Di stasera Cioè di Juve Ajax Nel primo tempo Nel primo tempo La Juve Ha fatto Ha giocato Nel secondo tempo È un po' crollata Poi negli ultimi 10-15 minuti È un po' in spesa Però Però raga Il rigore Della Juve E stava Nel minuto di recupero Stava rigore Il rigore stava Il rigore stava Anche da un Detto da un punto di vista Il per il rigore stava Comunque Anche se ne sognava La Era Era Cioè La Era comunque Terminato Beh raga Raga Ah no Vuoi fare Dell'Ajax L'Ajax È una squadra Straordinaria L'Ajax Quindi Raga Ciao Ci vediamo In un prossimo Video Con Gravigna Ciao Raga L'Ajax C'est